cari amici oggi abbiamo roberto la ricca dovete sapere che ci siamo conosciuti in modo un po' inusuale perché lui in fase di trasloco probabilmente stava cedendo delle pubblicazioni molto interessanti io che sono sempre a caccia di materiale astrologico anche giornalistico tramite i buoni uffici di Milena che salutiamo l'ho subito contattato e da lì è nata un'amicizia ho scoperto che roberto oltre che essere un accumulatore seriale come me di materiale astrologico è anche un bellissimo astrologo è stato direttore di sirio a strella cioè di diverse testate nazionali molto prestigiose ed è uno studioso di filosofia di yoga di medicina e ha sviluppato il cosiddetto astro chakra test che leggo insomma dalla sua presentazione permette una lettura accurata del campo energetico di una persona attraverso l'analisi dei chakra con una speciale apparecchiatura e lo studio dei transiti planetari sul tema natale questa cosa ovviamente mi ha immediatamente interessato e eccoci qua ciao roberto come stai ciao buongiorno grazie a te bene bene ecco questo astro chakra test eh di cosa si tratta come lo svolgi come ti è venuta l'idea sì l'idea è venuta diciamo grazie all'unione di due dei miei interessi principali che sono appunto l'astrologia e e quello che riguarda tutto il mondo della filosofia indiana diciamo e soprattutto l'antichissima scienza dei chakra perché esiste un collegamento molto importante tra le energie planetarie come i pianeti simbolizzano no delle energie planetarie e comunque le energie che danno origine a tutto e e i chakra per l'appunto che sono responsabili del rapporto che noi abbiamo tra i vari corpi quello fisico quello spirituale quello mentale quello emotivo e grazie a questa apparecchiatura che è di data diciamo come succede spesso no eh arrivano le cose al momento giusto eh è stato fatto uno studio di un paio d'anni per poter vedere che risultati dava e poi ho cominciato diciamo a girare un po' l'Italia eh portando avanti questo discorso che prevedeva eh come dire vedere la persona come stava in quel momento grazie proprio all'aiuto che ci poteva fornire l'antica scienza di chakra e lo studio dei transiti astrologici per cui potevamo vedere come certi transiti influenzano eh lo stato dei nostri chakra poi anche qui era un mondo comunque erano due mondi in cui eh sia quello dell'astrologia quello di chakra esistono tante come dire esistono dei veli esistono delle resistenze e al tempo stesso c'è anche tanta cattiva informazione ok anche molta approssimazione quindi diciamo mi piaceva portare questo discorso proprio per richiamare l'attenzione su queste due discipline che spesso non andavano troppo d'accordo perché chi è molto animato dalla filosofia indiana diventa un po' come dire legato all'astrologia vedica più che ha e invece qui si parla di astrologia occidentale e ugualmente nell'astrologia occidentale magari si vedevano un po' i chakra a parte comunque alcuni studi che erano stati fatti eh in maniera molto teorica invece questo permetteva anche una pratica perché c'era un riscontro immediato perché una volta visto eh il benessere diciamo della persona come si poteva riequilibrare attraverso eh l'utilizzo di eh pratiche naturali tramandate appunto dalla scienza vedica eh i risultati si vedevano eh io tornavo dopo un po' di tempo si faceva l'analisi devo dire che funzionavano quindi è stato una sperimentazione e una pratica è durata un una quindicina d'anni adesso complice anche il discorso no della pandemia stiamo in altre direzioni ma sempre io mi muovo più o meno per il benessere ecco è molto interessante tutto questo diciamo tuo studio perché io ho avuto il piacere di conoscere effettuando queste interviste persone che hanno collegato l'astrologia ai fiori di Bach persone che fanno una biorisonanza con un'apparecchiatura molto avanzata che riesce risintonizzare in qualche modo la tua energia con quella dei pianeti eh tu che appunto eh fai questo lavoro sui chakra cioè persone di estrazione culturale diversa a livello di mondo olistico ed esoterico perché eh chi viene dalla cibernetica chi viene dalla medicina chi viene come te dall'astrologia dalla musica l'erboristeria la farmacia quindi percorsi culturali diversi che però poi sono tutti diciamo convergenti nello stesso punto cioè quello della guarigione del miglioramento dello stato di vita perché poi noi forse su questa cosa a volte battiamo poco noi astrologi ma effettivamente tramite l'astrologia si può essere capaci di come dire di contenere no tanti altri tipi di cultura medica psicologica eh sociale antropologica non so se sei d'accordo con me c'è l'astrologia assolutamente sono assolutamente d'accordo con te infatti eh mi ricordo proprio la frase di Newton no che diceva che l'astrologia comunque univa tutte eh le varie discipline in qualche modo l'astrologia da sola in qualche modo non esiste ok se vogliamo invece rapportata in corrispondenza con tutto il resto è fantastica perché io studio anche le connessioni con la musica con l'arte eh da sempre da quando ho cominciato sono stato attratto sempre dalle varie applicazioni infatti ero convinto eh tanti anni fa che bisognava comunque fare anche altre attività oltre quelle dell'astrologo che non c'era no diciamo quando ho cominciato io proprio di primi anni ottanta c'era diciamo diciamo uno se l'ha inventato il lavoro poi c'era famoso oroscopo scritto che impegnava un mese c'era qualcosa di molto particolare poi esiste l'astrologia mondiale no eh quindi siamo attratti come tu ben sai analizzare quello che succede intorno a noi qui riassumendo tutto l'astrologia è conoscenza aiuta a conoscere noi stessi e il mondo e l'universo nel quale siamo in una maniera fantastica attraverso la simbologia quindi la conoscenza aiuta il benessere perché conoscere quali sono le nostre aree un po' più deboli se vogliamo dove dobbiamo lavorarci così è un compito che l'astrologia assorbe in maniera fantastica e è bellissimo e questo può aiutare molto il benessere già solo conoscendo e la conoscenza ma guarda io eh non 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 voglio essere polemica nel senso stretto del termine però c'è una cosa che un po' mi dà fastidio non di te dico in assoluto della cultura dominante no che vuole sempre ridurre l'astrologia stampella di qualcos'altro è una stampella per lo psicologo che è una stampella per lo psichiatra per il coach per il counselor eh per l'esperto di medicina naturale eh per e via discorrendo no come se fosse così un un appoggio io direi esattamente il contrario perdonate se amo la mia materia al di là di tutto ma io credo che l'astrologia contenga dei principi che possono essere eh di divinazione di salute di eh sviluppo della personalità eh di di cura anche del corpo no in tutte le sue affezioni in tutti i suoi limiti una presa di coscienza delle proprie valenze psicologiche profonde cioè eh l'astrologia è tutto è la grande madre di tutto perché dentro c'è l'antropologia la psicologia la sociologia c'è tutto quello che ci deve essere eh poi le altre discipline che sono per carità sorelle ok nel senso non c'è una eh prevalenza dell'astrologia che semmai potrebbe essere un primus interpares se proprio vogliamo fare come dire una scaletta no però l'astrologia è comunque la grande madre di tutto eh ecco è solo una visione perché poi in effetti è esattamente come dici tu cioè conoscere l'astrologia ti dà degli strumenti con i quali la medicina la psicologia persino eh le arti figurative acquistano un senso diverso quando le pratichi però secondo me è da lì che viene cioè sono gli astri che in qualche modo determinano come dire eh degli influssi delle situazioni che poi noi possiamo andare ad indagare meglio e a guarire a solleticare con eh la musica piuttosto che nei fiori di Bach piuttosto che riattivando i chakra piuttosto che facendo dei mandala no? Cioè ci sono tante tante possibilità ti sembra un po' presuntoso questo atteggiamento come astrologa o pensi che sottofondo ha ragione? Io lo condivido perfettamente io lo condivido però sai il contesto nel quale viviamo è importante perché ho assistito allo sviluppo dell'astrologia no? Comunque in questi quaranta e passa anni ho assistito fortunatamente andando in India spesso a come funziona l'astrologia in India ho avuto informazioni ben precise su come funziona da sempre l'astrologia in vari paesi e noi dobbiamo fare una sorta di processo inverso per forza di cose per poter portare l'astrologia allora io l'ho portata in alcuni attività dove comunque era slegata ok? eh e quindi alla fine le persone si aspettano le cose che si aspettavano quarant'anni fa da un astrologo perché quarant'anni fa erano pochi quelli che studiavano veramente astrologia e mezzi erano pochi e spesso si affidavano più altre mantiche come possono essere i tarocchi come possono essere eh anche la sensitività e così via allora hm non è una questione di accettazione di far passare l'astrologia accettazione perché comunque l'Italia è stata una culla eh dell'antichità astrologica e in tutte le chiese fino al 1400 1500 puoi vedere i segni zodiacali no? I riferimenti all'astrologia è che oggi bisogna in qualche modo cercare di portare la conoscenza astrologica secondo me a tutti ma non è come in Tibet che devi studiare i dieci anni astrologia per diventare medico ok? E e loro sanno bene non è come in India dove l'astrologo più di noi è meglio di noi diciamolo perché è esatto eh ma perché hanno meno condizionamenti allora da noi è utile liberarsi dai condizionamenti quindi io condivido il tuo discorso però bisogna fare un processo diciamo graduale non di accettazione di ripeto ma di inserimento perché c'è stato c'è stata tutta una campagna portata a togliere all'astrologia quel potenziale liberatorio e di conoscenza rendendola comunque un intrattenimento io non ho nulla contro i colleghi sai figurati eh ne conosco pure svariati no? Che fanno attività diciamo di intrattenimento astrologico anzi eh ben venga però poi alla fine il rischio è quello di confinare l'astrologia un giochetto o una camomilla che aiuta a no a distendere i nervi e c'è tutto il discorso invece di interpretazione degli eventi e anche quindi delle energie che si muovono che non passerà mai attraverso canali ufficiali e allora dobbiamo cercare comunque in qualche modo di dare il nostro contributo eh portando la connessione che c'è inevitabilmente tra tutte le cose diciamo che sono tutti acqua e tutta acqua dei fiumi che poi porta al mare no? Il mare è quello della conoscenza e quindi l'astrologia svolge un ruolo importante non voglio dire che è il po' in Italia però un po' beh ci sta scusate il gioco di parole ma è così quindi io condivido esattamente quello che tu dici però l'astrologia eh la pratica soprattutto ehm l'astrologia lo studio dell'astrologia la pratica sono persone che si occupano di tante cose perché la conoscenza è enorme come appunto è tutta l'acqua dei fiumi che porta al mare e così funziona perché più cose conosci e e più ottieni dei risultati a volte succede come sai bene no? Che il principiante quando comincia è talmente entusiasta delle scoperte che fa che poi cerca di applicarle agli altri e può fare dei danni invece no? Occorre uno studio costante eh e una certa eh e la cultura perché ci vuole la cultura quindi noi che siamo onnivori no? E tu l'hai visto ma se vuoi mi farò vedere la mia libreria ho comprato sempre di tutto astrologico c'ho delle cose incredibili abbonamenti di riviste indiane quello che vuoi ehm cioè quello che che ho imparato è questo qui cercare di far passare la visione astrologica dove fondamentalmente stava cioè dappertutto assolutamente oh tra l'altro leggevo sempre sul tuo profilo che questa cosa della musica non è solamente un hobby perché da come lei ne hai parlato sembrava una cosa un po' come dire amatoriale invece leggo che eh tu trovi connessioni fra l'energia planetaria e le alchimie sonore e questo mi è mi è piaciuto molto io l'altro giorno ho fatto un breve video dove parlavo delle risonanze fra aspetti astrologici le varie ottave no? Del del solfeggio raccontaci qualcosa anche di questo se ti va insomma se eh se hai piacere sì molto in breve perché come hai visto poi se mi dai là io guarda io ti dico che le persone sono sempre molto interessate ad ascoltare persone che hanno qualcosa da dire ok questo è sempre come dire il punto di repere non è il tempo è la qualità quindi vai tranquillo che ti ascoltiamo con molto piacere grazie grazie amata perfetto allora guarda io nella mia esperienza in realtà eh tu hai parlato di livello amatoriale io mi ritengo un dilettante nella parola proprio nell'accessione della parola più ampia cioè diletto il piacere allora collegato a questo piacere io mh non conosco la musica assolutamente eh ho preso delle brevi lezioni di chitarra diciamo ma sono attratto dal suono e quindi sono stato sempre un ricercatore ok del suono e ho capito quanto sia importante il suono per gli effetti che ha sulla nostra vita ecco poi c'è sai musicoterapia quello che vogliamo le varie applicazioni ma io penso che tutti dovremmo fare come dovremmo avere un'iniziazione astrologica eh come appunto dicevamo in Tibet no? Eh dovremmo avere delle basi che ci aiutano alla scoperta del suono perché è un mondo che ha molto a che fare con eh l'invisibile e ho sviluppato particolarmente questa questa branca cioè vale a dire il suono casuale oppure eh la sintonizzazione su una frequenza per cui ho suonato con vari gruppi ho avuto varie esperienze ma solo e sempre suonavo principalmente su improvvisazione eh ho fatto anche dei concerti senza sapere quello che avrei fatto diciamo magari il gruppo sapeva più o meno perché a me serviva quel tipo di energia ok e tu mi capirai ho una venere congiunta a plutone quindi comunque mi piace come dire no andare a nel profondo del suono ecco e per cui la casualità eh dei suoni e così via naturalmente ho ho sempre amato la musica amo tutti i libri di musica ma quella di ricerca particolare poi sono nato mi sono sviluppato principalmente nei miei dici anni settanta quindi comunque la musica psichedelica eh l'improvvisazione e così via quindi l'orecchio l'ho ben abituato a percepire certi suoni con tutto ciò tanto piacere ugualmente dai i parolieri dai cantautori dalla musica leggera e così via che non ho mai trascurato quindi tutto quello che è suono che è musica per me racchiude un universo fantastico e ci sono tantissime associazioni sì con le ottave giustamente perché come sai bene alcuni pianeti sono eh ottave superiori di altri no eh basta per esempio urano è un'ottava superiore di mercurio e chi capisce un po' di musica sa bene no che cosa vuole significare questo a livello di vibrazione che è quello che sta prima della musica il concetto principale è l'armonia e l'armonia è determinante anche in astrologia perché si parla di pianeti armonici e disarmonici non a caso eh questi sono stati la cultura è stata la cultura ellenistica no Pitagora che aveva concepito la musica delle sfere a originare il concetto d'armonia e che poi l'astrologia chiaramente ne ha fatto un baluardo specialmente sugli aspetti sui pianeti no il disarmonico e l'armonia oggi dobbiamo capire secondo me oggi lo stiamo già da anni sperimentando quanto il suono disarmonico o il pianeta disarmonico sia ugualmente se non molto stimolante interessante per cui sentire un suono che sembra sbagliato magari eh apre nuove prospettive all'interno di un'improvvisazione e così un pianeta perché sai una definizione di un tema natale di una persona è sempre carente secondo me proprio perché siamo costretti a valutare in velocità o in sintesi alcune cose e il valore armonico di un disarmonico eh non abbiamo spesso il tempo a meno che non la persona non faccia un percorso no ecco e quindi quello è molto interessante questo è molto interessante anche perché vedi io credo due cose prima di tutto che eh se le persone come noi che hanno questa cultura questo interesse probabilmente da anni no riuscissero a collaborare a cercare connessioni per scrivere pubblicare eh tenere convegni fare webinar cioè questa cultura deve essere diffusa e divulgata eh e solo noi lo possiamo fare cioè noi che abbiamo come soldirsi le mani in pasta siamo le persone deputate a cedere la fiaccola il discorso che tu fai è interessantissimo e già questa intervista mi auguro che lo faccia girare il più possibile ehm credo che noi eh astrologi medici olistici studiosi dovremmo cercare di esporci un po' di più di coinvolgere le persone un po' di più di far sapere cosa facciamo e cosa pensiamo di più tu hai eh citato diciamo quello che è stato il periodo d'oro dell'astrologia italiana eh probabilmente io e te c'eravamo anche ai convegni di Astra d'Arco di Trento a Campioni d'Italia eh c'è stato un periodo veramente d'oro poi c'è stata un po' una caduta adesso secondo me eh da qualche anno c'è un nuovo grandissimo interesse eh sorto no un po' su eh anche non non penso tanto una mistica new age come è stato negli anni settanta ma proprio perché tante discipline hanno dimostrato di non saper essere la chiave della felicità la psicanalisi non ha reso felice nessuno i tempi moderni la tecnologia idem cioè le persone sono rimaste senza risposta e stanno tornando a cercarle in una via più spirituale poi c'è chi ci si avvicina per risvegliare i propri chakra o curare la propria ah ora eh c'è chi lo fa perché invece ha un interesse più astrologico quindi la conoscenza del proprio carattere delle proprie possibilità e potrei continuare ovviamente l'elenco per per tantissimo tempo anche perché come te sente una connessione fra due tipi di arte diversa quella astrologica e quella musicale e quindi porta avanti uno studio no questo si può fare te lo dico per la pittura per la letteratura per la musica tutte le forme espressive possono essere in qualche modo lette e approfondite eh in chiave zodiacale ecco io credo che ci sia un grande risveglio da questo punto di vista e solo noi possiamo fare in modo che durante questo risveglio le persone trovino le giuste risposte le giuste indicazioni per portare avanti il messaggio non so se sei d'accordo con me sì sì io sono d'accordo anche in questo con te assolutamente eh penso che ehm individualmente noi facciamo eh no il nostro lavoro e lo facciamo al meglio e eh cerco di portare avanti delle collaborazioni io sempre perché da bilancia eh sai che mi piace molto collaborare il che non significa che non porti avanti le cose da solo anzi tutt'altro eh perché penso che la collaborazione sia fatta proprio la migliore sia composta da due individualità no ecco ehm quindi su quello sono eh con con verrai sei d'accordo con me sicuramente ho visto che eh no annuivi ehm sai che cosa c'è oggi c'è molta astrologia mh c'è anche molta informazione il che da una parte è un bene perché lo è quando c'è informazione dall'altra c'è anche tanta va bene senza che giriamo troppo intorno fuffa eh che diciamo c'è lo chiaro e tondo quindi il rischio è sempre quello di confinare l'astrologia entro certi ambiti e invece ecco perché dobbiamo portarla aprirla eh il più possibile trovare le connessioni perché è il momento giusto per farlo perché stiamo vivendo una trasformazione molto importante e l'astrologia può rientrare noi siamo di parte va bene però rientra sicuramente in questo processo perché lo sa leggere io non so quanti altri possano leggere questa trasformazione perché noi ne siamo coinvolti giusto ecco ma sappiamo i grandi movimenti che avverranno e e e questo noi lo lo portiamo avanti no? Io cerco di portarlo avanti negli incontri che faccio e così via quindi eh sappiamo che cosa andremo come sostanza diciamo andremo avanti ma chiaramente poi le strade possono essere molto diverse nel raggiungere lo scopo però l'astrologia ha un ruolo secondo me importante non a caso uscirà da dal ghetto in cui è stata confinata anche se un ghetto dorato in alcuni casi eh in altri no decisamente perché eh purtroppo abbiamo anche gli esempi come sebbene di valenti studiosi che hanno dovuto rinunciare poi o a a manifestare la loro arte o purtroppo hanno avuto dei grandi problemi. Non solo. Sai che cosa c'è? Allora la cosa che secondo me è diversa rispetto a prima è che prima l'astrologia interessava agli astrologi. Mano a mano che si sono stabilite queste interconnessioni culturali con altre discipline artistiche, mediche, psicologiche eccetera. L'astrologia può essere adesso uno strumento di grande interesse per l'artista eh il medico, lo psicologo eh cioè anche persone che non vogliono essere astrologi o basarsi solo e completamente sull'astrologia possono trovare una risorsa. intendo risorsa non stampella cioè un aiuto a vedere finalmente le cose del mondo nella loro interezza. Guarda c'è un tu prima hai parlato appunto di queste energie sottili no? Eh ci sono degli studi che sta portando avanti che confluiranno in un corso che farò gratuitamente perché ci tengo molto eh dove traccio una linea tra gli aspetti geometrici del tema natale cioè gli aspetti astrologici di distanze angolari tra corpi celesti che poi sono linee geometriche giusto nel richiamo con quel modo in cui sono state costruite eh le grandi cattedrali le energie del sottosuolo quindi l'evidenziazione di luoghi particolarmente magici il feng shui cioè la proprio la scuola delle forme fino ai risultati che può dare la radionica eh che è un'altra grande parte insomma di questo mondo forse poco compresa come l'astrologia cioè il fatto che ci sia una verità espressa eh in chiave matematica ma in forma geometrica in quasi tutte le grandi discipline esoteriche dimostra che c'è un filo sottile che poi le ricollega appunto alle ottave della musica piuttosto che ai concetti di della sezione aurea eh c'è è come una verità un filo rosso che attraversa la cultura e che se tu riesci a vederla mette in connessione eventi situazioni opere d'arte creazioni artistiche che non avresti pensato avere qualcosa poi effettivamente in comune bellissima certo sì sì è così la numerologia eh sai che nell'astrologia concluisce tutto e ugualmente eh qui complimenti perché comunque quella è una delle applicazioni interessanti eh la connessione che c'è sia a livello geometrico come come tu dicevi eh per esempio il quadrato che è una figura no sempre vituperata io sono a favore no ne parleremo no del recupero di alcune eh diciamo eh forme distrattate il quadrato era la base su cui si costruivano i confini e le città cioè quindi comunque rendiamoci conto quanto è importante il quadrato anche dal punto di vista astrologico invece nell'astrologia spicciola ascia inquadrato tra eh capito eh lascia perdere appunto chi nasce tondo non può nasce quadrato no come si dice a Roma quindi eh spesso e volentieri il quadrato indica un limite ed era il limite su cui si costruiva una città ha detto niente cioè Roma è nata grazie ai limes no eh quindi sappiamo eh i confini che venivano dati ma non solo il quadrato in chiave esoterica è sempre eh una lettura di grande stabilità non per niente l'imperatore dei tarocchi è seduto su uno sgabbello quadrato perché il quadrato del potere anche quindi quello di sicurezza e stabilità che infatti è dato da una mancanza di collaborazione tra fonti armoniche cioè ci sta tutto perché chi si comanda è chiaro ho ragione quindi ecco un po' credo che questa cosa ancora non sia ben chiara e dato che secondo me questo risveglio c'è ehm è bene che le persone che si avvicinano possano cogliere questa dimensione ma anche perché le persone sono alla ricerca di una nuova verità no? Di di una freccia che indichi il loro futuro la politica ha deluso la psicanalisi ha deluso la scienza per certi resti ha deluso cioè siamo tutti molto più tecnologici più serviti abbiamo le app abbiamo tutte le informazioni a portata di mano abbiamo la medicina che ti attacca il braccio che ti sia staccato per carità andiamo sulla luna su Marte su Giove con le sonde però poi la persona spesso non ha la percezione del senso della vita quando tu metti insieme tutte queste cose di cui noi abbiamo parlato finora comincia a capire che c'è una verità ultima e se c'è una verità ultima c'è alcuno scopo ecco e e e dai quindi alle persone una traiettoria eh intendiamoci ovviamente non è mio compito salvare l'umanità ma se posso migliorare la vita delle persone non solo perché gli dico guarda tu sei bravo a cantare o tu sei bravo a fare l'impiegato oppure guarda fai prova perché il concorso lo passi no cioè l'astrologia di aiuto alla vita quotidiana ma c'è una una lettura più profonda dire guarda che tramite questo tu ti spieghi l'arte la vita il mondo sulla terra metti insieme culture come la vedica la cinese l'occidentale l'africana perché c'è comunque una eh come dire un nucleo che è comune a tutto e a tutti e che ci rende tutti i fratelli e tutti che vanno nella stessa direzione quello diventa veramente un messaggio di grande unità di grande fratellanza e di grande fiducia nel futuro che è la cosa che manca che manca teoribilmente di questi tempi sono anche qui completamente d'accordo con te ma ho fatto una testa così vabbè non volevo ma figurati è come se parlassi io quello che stai dicendo quando eh te lo dico veramente eh perché sono le cose si vede di qui noi ci nutriamo ci abbiamo la la nostra passione la viviamo no? eh la viviamo ogni momento e questo si capisce eh secondo me allora la questione è questa qui la famosa era dell'acquario no? Eh sì tu hai esposto le due possibilità all'era all'acquario la maggiore conoscenza per cercare il senso di fratellanza l'unione delle anime come la vogliamo chiamare ok? Che viene associata generalmente all'acquario e l'altra è la tecnologia esasperata che invece allottana piuttosto che avvicinarci quindi ci sta tutto ecco il rischio dove sta e forse la bilancia visto che tendo a vedere le cose no? Chiaramente la abbiamo tende a pendere prima da una parte spero che poi anche l'altra in qualche modo grazie anche non voglio dire al nostro intervento ma a tutto quello che si muove ok? Che ha bisogno di stimolo perché ricordiamoci che l'acquario è un segno fisso no? eh quindi è fisso ha bisogno di stimoli l'acquario se no altrimenti si adagia nella sua visione delle cose così quindi eh dobbiamo riequilibrare tutto ciò e lo facciamo nel nostro microcosmo nel no la nostra vita ma anche nel lavoro che noi facciamo che che è un lavoro fantastico perché quando una persona deve vendere una cosa e chiede il tuo aiuto in realtà riesce a far passare quanto ci sia di personale dietro che messaggio c'è di fronte al fatto che deve vendere quello e quindi l'aiuti a vedere una visione olistica ecco eh diciamo universale di quella che è una questione piccola eh piccola le cose piccole formano cose grandi ecco eh quindi è importante sia la piccola questione che quella enorme chiaramente se uno vuole sapere il mio percorso spirituale ma l'approccio della persona è quello di sapere quando incontra l'amore della sua vita capisci che serve a poco allora dare delle visioni a trecentosessanta gradi penso che sia il nostro compito poi per carità eh giusto? Penso beh noi ci proviamo quantomeno ci proviamo sempre è chiaro nella nostra umiltà e comunque nel nostro eh quotidiano che è quello perché lo straordinario è molto interessante però va comunicato nel quotidiano affinché in qualche modo riesca a essere percepito no? Come un suono che è nascosto da da mille da mille cose tu lo devi andare a cercare ecco una volta cercato cerchi di seguirlo. Senti come ultima cosa prima di salutare chi ci ascolta volevo farti una domanda tu sei stato direttore di alcune testate molto importanti. Supervisore in realtà. Vabbè insomma quello che è supervisore è tecnicamente differente cioè controllavo diciamo gli articoli e programmavo spesso gli articoli diciamo. Vabbè un coordinatore editoriale diciamo sui contenuti. Ecco brava esatto. Benissimo allora eh ci siamo eh anche un po' confrontati quando ci siamo sentiti in privato sul fatto che purtroppo la carta stampata non sta conoscendo una fase molto felice eh e quindi ovviamente anche le testate astrologiche esoteriche eh risentono un po' del periodo giusto? Eh secondo te eh è possibile che invece proprio le riviste di questo settore possano un po' contribuire a tenere alto se vogliamo il ruolo della carta stampata un po' perché gli astrologi sono vintage quindi insomma gli piace l'odore no dell'articolo del libro della carta stampata ma anche perché secondo me siamo persone interessate alla lettura alla raccolta di materiali ce l'abbiamo un po' nel sangue perché ci siamo sempre dovuti molto andare a cercare le cose no? Mentre se vuoi dimagrire basta che vai su Amazon ti escono eh cento libri diversi per non parlare di quello che succede se lo cerchi su Google eh distinguere quello che è fuffaguru eh da quello che è invece materiale veramente pregiato non è neanche così semplice a volte no? Perché si avvicina a questa disciplina quindi la carta stampata può fare in qualche modo anche da regolatore di di un certo mercato proponendo le cose più serie più professionali poche parole c'è un riscatto secondo te per quello che basta Siria hanno fatto per contribuire alla diffusione di questa cultura o stiamo andando proprio verso un declino? No guarda ehm mi verrebbe da dire l'uno e l'altro coesistono e quindi comunque sono sempre le persone a fare la differenza in questo caso l'entusiasmo di una persona no? Nel fare il proprio lavoro per noi siamo stati legati no? Eh io ho comprato per dire Sirio dal primo numero fino a poi quando mi sono ritrovato a fare il supervisore e anche dopo ok? Eh quindi noi siamo venuti in un altro modo la nostra cultura si è formata anche e soprattutto attraverso queste riviste dove hanno scritto dei film illustri e c'erano degli articoli fantastici e così via poi è arrivato internet no? E come dicevamo bene grandissimo eh perché i primi siti mi ricordo erano fantastici soprattutto andavo molto su quelli stranieri che avevano dei contenuti sai che ci potevi rapportare con una persona che stava magari eh nella Hawaii facilmente no? Ecco e magari venivi a contatto e pensavo guarda questo la pensa come me no? Eh era molto interessante tutto ciò. Io amo ancora l'odore dell'inchiostro, i libri, la carta stampata, non ci posso fare a meno. È solo per una questione di spazio purtroppo che sono costritto no? Ecco a togliere spazio ma ma veramente era anche troppo. Eh e quindi ehm quello che ti voglio dire sì è una scommessa nel senso che se tu senti che il tuo contributo in qualche modo è puro e sincero per lo sviluppo di questo magari ottieni un risultato ma se ti affidi alla diffusione degli altri in generale parlo è sempre stato un problema perché anche i tempi nei quali diciamo eh appunto facevo il supervisore il finalizzatore ultimo noi chiedete maledicola si ritrova dice sì ma a me me ne portano una copia eh quindi uno fa uno sforzo enorme poi la catena si interrompe ed è quella la questione adesso eh non sto parlando di situazioni attuali ma di qualcosa che la questione è questa qui la passione porta avanti delle persone andare avanti con la carta stampata e anche se i dati possono dire di no ok? Io sono convinto che se uno vuole far passare il messaggio lo deve fare in tutti i modi quindi anche attraverso la carta stampata e anche una persona che riesce a colpire va bene qui c'è tutta una fascia di giovani che non sanno che esistono delle riviste meno che mai astrologi io ma anche di età diciamo non proprio parlo anche dei trentenni non sapevano proprio dell'esistenza di giornali di tipo astrologico quindi capisci che eh sono intervenute delle cose per cui l'edicola è diventata per me l'edicola era un punto luce è sempre stato no sia per tutto quello che ci compravo ma anche per parlare con l'edicolante che spesso era una persona che no stando lì in mezzo era informato su tutto eh ma la la cosa è che oggi è diventato invece un venditore di gadget no? quelle poche che resisto bene come vedi manca la perfetta catena che permette un'autosufficienza che sarebbe la salvezza perché un giornale autosufficiente che poi ha un distributore autosufficiente un edicola autosufficiente di poter scegliere quello che vuole è perfetto cosa che no da da noi non è così diciamo lineare purtroppo in me quindi certo è sempre il discorso è meglio provare a cambiare le cose da dentro piuttosto che essere fuori e rassegnati quindi secondo me uno deve provare ma lo deve fare anche per se stesso quello è è importante la persona la persona fa l'energia si è convinta di quella situazione io sono convinto di questo è vero poi dice sempre che le cose si fanno quando c'è una persona che le vuole fare no? Esatto è un singolo che decide è vero la motivazione determinante poi come andrà andrà durerà poco durerà tanto lo faranno altri al posto tuo è relativo cioè tu in quel momento metti l'energia a disposizione di quello che vuoi e lasci che le cose succedano e poi il che non significa un insuccesso tutt'altro perché oggi il successo si si misura addirittura in termini di like no di di follower cioè è tutta fucca però sai che c'è io sono convinta come ti ho detto poi magari sbaglio nel senso che eh la conoscenza che ho dell'editoria è quella di un'editoria non di settore ehm però ti ti posso dire che secondo me siccome su internet c'è un mare di fuffa guru e poi qualcuno veramente capace eh e lo stesso anche in libreria eh l'editoria specializzata può essere il luogo dove tu impari a distinguere la qualità dalla spazzatura eh perché ci saranno delle persone chiamate a scrivere ci sarà la segnalazione di un libro di un articolo di un convegno cominci a riconoscere i nomi eh i testi le scuole eh che eh comunque hanno un certo valore perché poi la funzione della carta stampata dovrebbe essere quella di fare cultura non solo di raccogliere proventi pubblicitari allora se la carta stampata fa cultura può diventare una guida al web cioè qualcosa dove dici ma io come faccio a sapere se è meglio eh seguire il webinar di Pinco Pallo farmi tre corsi con eh Maria Calzetta ecco quando quei nomi poi li vedi sulla carta stampata che gli viene dato una eh un imprimato è un po' come dire ho pubblicato col self publishing oppure mi ha pubblicato un editore no? Quando c'è un editore c'è un controllo un vaglio della qualità del prodotto eh un'aggiustatura che si fa in corso d'opera per rendere sempre tutto migliore quindi c'è l'editore dovrebbe metterci la sua cultura per selezionare il meglio e questo avviene non solo per i libri ma dovrebbe accadere anche appunto per la carta stampata i giornali l'intrattenimento insomma dal quotidiano al semestrale c'è una supervisione che ti garantisce una qualità ed è proprio lì che impari a riconoscere anche sul web cosa va e cosa non va ecco a me piacerebbe tanto che la carta stampata facesse un po' questo ruolo assolvesse a questo compito eh sai quello è il ruolo per cui io mi ci sono impegnato eh quindi comunque fino a che è stato possibile è stato possibile poi il discorso pubblicitario economico tutte queste cose purtroppo alla fine fanno la differenza e questo non significa nulla eh ti ripeto quello che abbiamo detto prima secondo me è determinante cioè vale a dire l'impegno della persona e il piacere che c'ha nel comunicare nell'esprima cosa o nel dirigere eventualmente eh la scelta verso cose interessanti piuttosto che altre che sono trascurate no da dal web o da la fuffa guru come dicevi ecco allora questo sì ok va benissimo anche indagare dentro dei fenomeni che propone la fuffa guru la stampa lo può fare in maniera efficace e tutto c'è però la questione è questa eh non parlo parlo in generale eh parlo in generale eh non c'è più quella connessione perfetta che esisteva tra eh editori ehm supervisori eh allora tu puoi fare la differenza perché se riesci a proporre la tua cosa anche nella tempesta tu riesci a stare calma quindi se riesci a proporre il tuo discorso anche in un ambiente che non va bene è già un ottimo successo perché purtroppo non voglio fare qualunque insta o altro ma siamo in una realtà deteriorata eh in cui il valore di certe cose soprattutto della cultura ahimè viene quantificato e basta guardarsi intorno purtroppo eh eh però sai che guarda ti dico una cosa io da brava donna della vergine penso che sia sempre possibile spaccare il cabello in quattro e trovare come dire un modus vivendi che sia fruttuoso ma anche importante a livello di contenuti la grande astra degli anni settanta ottanta di cui tu mi hai mandato anche diversi numeri che mi mancavano non finirò mai di ringraziarti per questo eh aveva la rubrica tipo scopri chi seduce in questa estate che serviva a fare cassette a vendere poi dentro c'era Clara Negri Serena Foglia Massimo Fosani ecco cioè secondo me tu lo puoi fare lo scopone eh su mi ricordo un articolo il titolo mi resta impresso perché io Lili te la uso poco nel eh astrologicamente eh mi ricordo sto titolo è la luna nera la sua donna vera che tu vedo banzai no voglio sapere capito ma se queste cose servono a far veicolare altro allora ci sto no nel senso non è altissima cultura ma 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 pure il talismano eh per i soldi ma va bene tutto anche un po' di così credibilità popolare giusto ma devi partire da qualcosa quindi va benissimo perché capito poi quando si quando si fanno le riunioni si dice oh sì ma devi parlare di quello no che ok mi proponi l'articolo sulla reincarnazione però me devi pure mettere cioè ecco sì allora tu hai citato un esempio fantastico erano tempi anche molto particolari eh gli anni ottanta e novanta e c'era per dire la posta eh sul silio di Marco Pesatori che per me era fantastica cioè era stupenda erano dodici pagine di posta in cui lui dava delle risposte fantastiche no eh quindi e siamo negli anni novanta eh quindi quello che una volta era possibile era determinato anche da energie molto favorevoli che c'erano c'era un gruppo ok il gruppo è determinante e funziona perché ognuno è libero di esprimere la sua individualità quindi quello che voleva fare l'articolo su la luna nera e il sesso per dirti come funziona lo poteva fare perché andava in un contesto comunque il quale c'era anche l'altro esatto è sempre quell'equilibrio che ci deve stare eh per ottenere un risultato e ne sono assolutamente convinta infatti dico va benissimo anche un po' di vulgata se vogliamo sempre se questo aiuta a finanziare qualcosa di superiore e anche perché la persona che legge e dopo un po' che ha articoli di un certo spessore vicino allo scopone della seduzione dopo un po' comincia a riconoscere le cose più profonde da quelle che non lo sono insomma io io ho molta fiducia nell'intelligenza degli esseri umani e magari sarò pure un ottimista gioviale fino alla fine dei miei giorni ma credo che le persone quando si abituano al meglio poi al peggio non ci tornano ecco io di questo ne sono convinta e credo che l'editoria possa avere da questo punto di vista una grandissima funzione anche con un occhio al guadagno come eh insomma io da brava segno di terra eh te lo dico cioè senza soldi in se fa se cantano messe eh eh quindi è chiaro che bisogna anche rispettare un po' le regole di un mercato pur che questo sia solamente uno spunto una risorsa per fare qualcosa in più io mi auguro tanto scusami tu sai che quei giornali eh che hai citato campano ancora comunque o la pubblicità se vedi quelli degli anni appunto ottanta o anche fine anni settanta quelli che si campava sulla pubblicità di diciamo no il Mago Telma con tutto rispetto possibile per anni ha fatto la pubblicità su Astra no? Però voglio dire una cosa guarda mi hai dato uno spunto per dire una cosa allora sto paro Mago Telma eh che ha avuto la pessima idea di andare a fare lo strappato in televisione eh e e secondo me così ha perso punti ma proprio in un modo veramente è finito con con anni e ballerine in realtà è uno dei massimi studiosi mondiali di esoterismo e magia di alchimia c'ha sei lauree mica una sei prese nell'università statale eh non prese in Albania eh cioè è una persona coltissima no lo dico perché io non lo conosco non l'ho mai conosciuto non ci ho mai parlato e io tra l'altro non mi occupo di magia alchimia trasformazioni esoteriche non è proprio il mio campo e da brava vergine a volte sono pure scettica eh però ti dico cioè e una volta mi sono incuriosita sono andata a guardare il suo sito e insomma la sua opera allora lui è stato eh inquisito diverse volte uno potrebbe pensare sicuramente per truffa lui è stato inseguito dal dalle diciamo delle autorità giudiziarie solo per evasione fiscale cioè quest'uomo in ormai quarant'anni di carriera non ha mai avuto una denuncia per truffa eh circonvenzione di incapace appropriazione in debita cioè eh questo qualcosa vuole a dire no? c'è una sostanziale differenza rispetto alla Vanna Marchi perché li mettono insieme ci tenevo a dire questa cosa no 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 bravo eh cioè non 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 facciamo di tutta l'erba un fascio perché eh anche se non crediamo alla magia o all'alchimia ci sono degli studi seri che sono molto vicini alla filosofia e alla teologia eh quindi insomma non non facciamo il mucchio perché il povero Marco Delma secondo me avrebbe molto da dire e ti confesso che uno dei miei sogni è proprio quello di intervistarlo eh perché credo che abbia una cultura di suo impressionante e si è rovinato secondo me perché andando in televisione ripeto è diventato un fenomeno da circo chiudo chiudo la parentesi però sì quei giornali si sono finanziati coi maghi hai fatto bene a dirlo allora sai perché perché comunque la televisione adesso così solo un esempio perché se no il discorso è molto ampio ehm il Costanzo Show no che comunque negli anni ottanta novanta era una sorta di eh quasi obbligatorio vederlo eh sono usciti fuori tanti personaggi no c'era spesso e volentieri ospitava astrologi io ho visto la Bonomi che c'era spesso c'era la Marina Angelica esperta astrologia indiana quindi si poteva vedere solo da Costanzo no comunque e poi vabbè sgarpi tutto il resto quello che vogliamo quindi nel bene e nel male quello che si dò fuori da da Costanzo o Telma è diventato popolare anche grazie a Costanzo Ciotti allora una delle regole della società dello spettacolo quando appare in televisione essere identificato per qualcosa l'esoterista che è anche provocatore accetta questa sfida ma naturalmente viene gestito dal burattinaio di turno e quindi quando il burattinaio in qualche modo lascia da solo eh la persona eh per quanto possa essere capace capisce che ormai il suo ruolo è quello di fare l'intrattenitore il pagliaccio se vogliamo piuttosto che portare dei contenuti si dimentica perché la società dello spettacolo ha questo potere i fari forse accecano non visti tanti i casi no di persone illustri che a me sono rimaste scottate poi da queste luci che hanno un effetto ipnotico si vede ma alla fine purtroppo è rimasto cioè portato avanti un messaggio che poi per forza di cose è diventato ridicolo una gabbia perché si tende ad identificare il personaggio con quello che porti e se tu porti avanti solo provocazioni e non non porti più frammenti del tuo discorso diciamo eh da cui è ripartito eh perdi tutto purtroppo e perdi anche la dignità se vogliamo ed è un gran peccato se lo intervisterai ben volentieri la la vedrò perché sono convinto io sono favorevole comunque a vedere le cose sempre come te a trecentosessanta gradi e quindi è giusto che vengano informarsi e capire bisogna sempre scavare perché spesso ciò che appare non è la realtà eh io poi questa cosa nel mio tema ce l'ho molto forte perché ho un nettuno leso e quindi sento proprio l'esigenza di diradare le nebbie no ce l'ho sempre avuta questa cosa fin da piccolina eh quindi sì mi piacerebbe anche se ovviamente non non so bene come come approcciare questa cosa ma ti informerò senti Roberto un'ultima cosa mi mandi un po' di progetti per qualche seminario qualche cosa bella per la nostra accademia vero? Sì hai ragione certo eh periodo purtroppo è stato un po' come dico questi lavori con queste cose sì sì te li mando assolutamente infatti ci sto lavorando perché lo voglio dire a tutti quelli che ci ascoltano adesso che ho incontrato Roberto non lo mollo più eh noi abbiamo un anno molto bello con già tanti diciamo progetti nel calderone ma c'è sempre spazio per una voce come la tua eh l'importante è che me me li mandi così ci organizziamo perché immagino che tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa lunga che bella chiacchierata molto appagante per me eh avranno voglia di sentirti raccontare qualcosa soprattutto sull'astoscia eh aspetta l'astoscia cacranissimo scusami eh qualcosa di veramente nuovo e anche le connessioni con la musica sicuramente sono qualcosa di interessante quindi ti chiedo di venirci a raccontare eh queste discipline questi interciculturali penso che sarà interessantissimo mi auguro tanto che tu possa essere al più presto dei nostri assolutamente io ringrazio te veramente tanto è stato come dire un incontro come tu hai detto particolare ma a quanto pare molto promettente no? E anche io ne sono molto contento guarda assolutamente ci siamo ci siamo divertiti grazie il mio istinto mi dice che se non fosse che ahimè eh non possiamo tenere le persone ora incollate al video avremmo continuato eh sì con episodi racconti e quant'altro io ti saluto saluto anche tutti gli amici che ci hanno ascolti grazie assolutamente un saluto a tutti un abbraccio un bacione ciao buona giornata a tutti ciao a tutti ciao ciao grazie